Ragazzi, allora voglio iniziare con questo video perché questo è un momento nel dato perché per quanto riguarda sui retiniani e ho detto perché mio fratello mi ha cancellato quel fatto lì e io lo ripubblico perché prima di parlare e benvenuti in questo canale perché mi metto tutto quindi passate anche nel mio secondo canale e poi mi metto tutto che cosa ne penso anche nella partita di eventos e undiesi che poi ci arriviamo quindi bisogna di parlare con questo video quindi prima che dovete fare è iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e dando le notifiche per non perdere i miei contenuti e supportateci anche con un like quindi mi raccomando allora mi ricordo che mi ricordo che questo minimo non è un edifico anche una persona perché se ne è andato e ci metto un'altra persona perché è scomparso in cima con mia lì e mi dispiace per questo però il motivo è un altro perché la vita va avanti e spero che questa vita fa schifo lo so però noi umani cresciamo e più facciamo tesoro quindi questo è che bisogna affrontare nella vita e così va avanti il nostro il nostro futuro dalle persone umane come noi sappiamo fare quindi questo ci dice i retiniani quindi questo è mi raccomando e mi dico di più di questo perché se io mi metto un internista a quello di una certa e anche i retiniani sono così per questo che noi siamo venuti in causa dalla nascita fino a passare a 18 anni poi a 20 21 29 23 24 e sono sette anni della mia vita ho contribuito tutto e così è stato però c'è qualcuno che ci nega molto ed è un amico che è scomparso però è come un secondo fratello per noi mi ha lì e questo è un guerriero ma un cuore puro e che ha sempre combattuto da leone da grandissimo campione e come giocatore e io per questo che lo stimo ragionano cambiati ed è per questo che siamo fatti così noi quindi possiamo cambiare le vite alle persone care quindi questo siamo noi e questo siamo noi e questo che i retiniani esistono quindi questo è tutto però siamo noi a diffonderli a questi retiniani qua però io devo toccare su alcuni elementi ma non sono da parte lo sport perché il calcio gira a 360 grandi perché io non lo vedo così eppure ha un altro giocatore che è morto che non so come si chiama e quindi io so tutto dopo la morte c'è la risurrezione e dopo quello che ha venuto perché ci sono molte difficoltà per questo che noi siamo venuti al mondo questo è l'intero mondo e così è mi raccomando e non fateci più arrabbiare quindi questo è l'intero mondo e poi mi metto anche questa partita di stasera perché è importante questa cosa qua quindi mi raccomando e non fatemi brutte figure perché questi retiniani esistono da meno perché noi abbiamo messi i benvenuti a questi ed è per questo che noi siamo così e non è vero che io ho cambiato le cose io questo non lo dico e non lo penso quindi questo è e mi ricordo che voi tutti lo sapete da me e da me lo stesso quindi il mondo è questo quindi basta con questa cosa e ora pensiamo a noi perché il mondo è questo che gira intorno al sole quindi non c'è paura tra di noi però la paura è quello di farire la paura ci danneggia perché perché siamo nati per vincere e così è stato come ha annunciato un cantante perché è questo che siamo e siamo davvero un'unica realtà questo è un'unica realtà questo è un'unica realtà questo è un'unica realtà e nel secondo canale si chiama le strane le strane e sol quindi vi metto questo link qua sotto e troverete un sacco di migliori del canale di questa ragazza perché è importante questa cosa e io ne condivido queste parole perché ne sono importante per io quindi alla fine del mese voglio arrivare a 100 mila iscritti per arrivare ai 300 mila quindi mi raccomando e non mancate la post partita di stasera quindi ci vendiamo e buona e buona visione a tutti e anche una buona partita quindi mio giorno tutto e a presto questo è e vi mando un grosso abbraccio e un bacione quindi questo è e rimarrà così sul fatto dei ritiriani quindi questo siamo noi e qua che dovessimo cambiare le nostre vite quindi questo è la vita e qua quindi state in salute e che fa bene a tutti questo video quindi riflettete e mio giorno alla prossima e un buon sabato a tutti buona serata